Oggi mi hanno scoperto, mi hanno indagato per i voli di Stato perché da Ministro che si occupa di Polizia e Vigili del Fuoco andavo a inaugurare le caserne usando gli aerei della Polizia e dei Vigili del Fuoco. Vedete che personaggio particolare che sono. Però l'indagine è anche sull'utilizzo degli aerei di Stato per motivi di partito e non motivi di partito. Tutti i voli di Stato, e chiedetelo al capo della Polizia e al capo dei Vigili del Fuoco, erano utilizzati in giornate in cui c'erano presenze istituzionali in caserme, in comandi di Vigili del Fuoco, a Platia, a San Luca, a Castelvolturno, da nord a sud per motivi istituzionali. Non prendo il volo di Stato per andare in vacanza, quello lo faceva qualcun altro.